Ciao a tutti bentornati in questo nuovissimo video, questo è il video vlog del mercato della shopping. Oggi ho comprato questi, praticamente sono i cuscini per la sala, li piazzo la e vi faccio le foto come sempre, sono antimacchia e costo 5 euro l'uno, sono quelli normali ma che dicevano, questi 5 euro l'uno, coppie di cuscina, serie antimacchia, ma la grasa è bianca, e ne ho presi due perchè sono una coppia da due, quindi sono 4 le serie, quindi 4 le due. Allora, poi, qui perché è venuto giù, questi me li hanno regalati, i evangelisti, qui, qui li faccio lì, poi lo prego, pesante. Aspetta! Aspetta! Non ci faccio l'acqua, le faccio comoda. no ho fatto le fragole a me il caso, guardate che belle grosse sanno un piretto adesso ho poi il peso e vi faccio spesso ho speso 6,90 euro per 4 limoni un po' di rumore normale anche se ho risolto con il liquido questi giorni per fortuna fa caldo vedo che sia questo lo scontino 6,90 euro frutte per due di selene selene e mohamid allora ho preso il mio classico patatine e arancina nel mattino di questo video adesso faccio un giro un altro video e questo io ho speso 14 euro e questo e questo e questo è quello quello piccolino finalmente ti ho trovato il cupino piccolo mi serviva dove ho preso il dolente per la casa eccetera un euro 50 poi mi sono fatta la collezione ho messo in acciaio piccolo io ho chiesto in acciaio fare i pancake una cosa che ancora non abbiamo fatto e magari le crepe piccoline e basta, così qua ero gli evangelisti che mi hanno dato questo canali mi hanno invitato ad andarci questo è perché metto come segna qualcosa giovanni 316 poiché tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito affinché comunque credo il gruppo evangelisco facebook avanti per crescere mi lascio la foto così me la voglio leggere sto lì a sclerare a legge non c'è un altro discorso tanto c'è qualcuna mia coscienza che piangono ogni volta allora qua c'è questo quindi mi hanno invitato ad andare là questo è il calendario parole della vita me l'hanno riparato che ti è molto gentile calendario fra ore della vita buona nottura Dio che ti vi dedica è un po' tosto veramente bello questo è tre pela diciamo quello di oggi oggi siamo in 24 mi vedi tutto il giorno mi vedi è disperata ho aperto da fare il mercato allora 24 per il giocetto solo Dio ti trova il gioposo l'animo mia qui è te per nove mesi il battito del cuore ha accadezzato la vita del bambino e poi l'impreviso questa piccola vita si trova catapultata fuori da tutti gli stimoli che lo circondano e quello che in realtà è di poter dire ancora un battito umano questo è il suo bisogno spiegherò la ragione per cui il neonato deve essere spesso tenuto in braccio senza timore di viziarlo proprio per farlo sentire sicuro anche la Bibbia ci dà un'immagine di questo nel salamo 131 è scritto come un bimbo divezzato sul petto della madre tale è l'anima e tale è la mia cosa per me madre tale è l'anima mia signore e anche un credente a volte può sentirsi smavito quando è cambiato la realtà attorno a lui quando perde dei punti di riferimento l'unica cosa che può ridargli è la pace e riascoltare il cuore paterno di Dio che possa amare per lui caro lettore hai tu sperimentato la calma che viene nell'acquietarsi e riposare fiduciosi sul petto di Dio bella questa pace veramente bella e ora ce lo possiamo fare mamma mia mi sto vedendo l'ultimo che lungo sarà lungo poi si e su tweet e whatsapp parole della vita contro parole della vita seguici sul canale tv 245 tv sat canale 454 skype canale 854 in Europa su orbit 3 cest frequenza 12 673 mhz fact 56 verticale simbolate 29.900 ms www.paroledellavita.org bello e questo me l'hanno regalato il nuovo testamento offerta lancio 1 euro non si che 1.50 questo me l'hanno regalato veramente mi hanno regalato tutto ma veramente ogni volta che li vedo sono delle bellissime persone oh c'è anche un signore c'è di nuovo qualcuno si riesce a fare queste cose madonna le cose nuove hanno una sniffatina e senza la vita la 61 polla dovrebbe essere a salerno giusto sì 097 dovrebbe essere là basta per questo video è tutto noi ci vediamo domani per un nuovo video intanto io gioco il make up prima che esce questo e basta bella gemmata finalmente questa settima tira novità l'unica novità che c'è è questa qua che è arrivata aiuto il secondo mobile con un coso allungato perché me l'hanno detto senza l'avrei l'ho detto idiota che non l'hanno capito l'home tour lo abbiamo potuto spostarlo per un po' in avanti adesso ci abbiamo delle cose da fare quindi potuto spostarlo purtroppo non so quando ma però che sia stato è vostro questo video è tutto se il video vi è piaciuto mettete mi piace e noi ci vediamo domani per un nuovo video questo lo conto come secondo video che se è in realtà il primo e mi raccomando mettete la campanella iscrivetevi al canale condividete se volete e noi ci vediamo domani a un nuovo video ciao a un nuovo video per evitare Grazie per la visione!